Sarà pubblicato lunedì 15 maggio dall'amministrazione Spezzina un bando da 200.000 euro per dare vita a una programmazione dell'estate di qualità. Ad annunciarlo questa mattina gli assessori Mori e Basile insieme a Marzia Ratti, direttrice dei servizi culturali del comune della Spezia. Per la prima volta in città l'amministrazione annuncia un vero e proprio appello a nell'avanzare proposte. Spettacoli, musica ed eventi che si svilupperanno nelle principali piazze cittadine. L'affidamento del bando dovrebbe avvenire entro i primi di giugno. Abbiamo deciso per la prima volta di mettere intanto una cifra importantissima perché si parte a giugno, si finisce a settembre, 200.000 euro. È un investimento che Spezia non ha mai avuto rispetto agli eventi in città. A questi poi si aggiungeranno dei microbandi non superiori ai 5.000 euro che coinvolgeranno gli operatori commerciali. dove l'amministrazione comunale dice noi ci mettiamo 5.000 euro e voi metteteci il resto e la fantasia. Poi ci saranno altre iniziative dal Festival Jazz, eccetera. Ma la cosa più significativa che oggi noi proponiamo è questo bando di 200.000 euro, che poi sono 164.000 euro se togliamo l'IVA, dove chiediamo a tutti gli operatori italiani proponeteci dei progetti. Il miglior progetto si aggiudicherà appunto questo investimento significativo e importante per alietare l'estate a Spezia. Anche i quartieri saranno coinvolti nella programmazione degli eventi dell'estate Spezzina attraverso altri bandi, circa una decina, per un valore complessivo di ulteriori 5.000 euro. Diciamo che i 200.000 euro saranno soltanto nelle piazze spezzine del centro città, ma invece a questo si aggiungerà anche un'altra iniziativa di circa 60-70.000 euro, dove andremo ad alietare tutti i quartieri della nostra città. Un'estate che quindi non sarà presente soltanto nel centro storico, ma un'estate che sarà presente e sarà anche qualitativamente presente in tutti i quartieri. Una grande estate, il ritorno della grande estate Spezzina, che non si fermerà soltanto nel centro città, ma andrà anche nei quartieri. Noi abbiamo le periferie, abbiamo i quartieri, li dobbiamo valorizzare.